Ma in realtà Grillo, l'ho proprio sentito l'altro, ieri dopo la notizia di Rodotà e mi fa una cosa del tipo Ma perché non hanno capito un tubo? Io sto cercando in tutte le maniere, questi qua non capiscono, non pensano con la loro testa Io sto cercando di fare qualsiasi cosa, ho detto che Rodotà, ma dico Rodotà Belin, ma Rodotà è una persona squisita E sono andato a dire che è un autogenario, ma c'è chiunque avrebbe, e Crimi mi annuisce Ma dico, ma Crimi, ma ce l'hai un cervello? Un giorno tipo mi sono avvicinato e gli ho detto, ma Crimi hai proprio una faccia da culo E lui mi ha detto, si hai ragione, ma come si hai ragione? Ma stiamo scherzando, ma dai, un giorno arrivo lì davanti E gli chiedo a uno dei miei parlamentari, ma come stai? E lui mi risponde, e non lo so, devo chiedere a Grillo Ma come, ma sono io Grillo? E lui mi fa, ah, ma come sto allora? Ma non lo so, ma te lo devo dire io Ma beh lì, ma stiamo scherzando, ma dai, ma non, ma cosa devo fare adesso? Devo parlare male di Fo? Eh? Devo parlare male di Fo? Che poi mi incazzo, io non voglio incazzarmi, non voglio incazzarmi Ma poi mi tocca incazzarmi, mi tocca mandargli a fare in culo Siamo finiti, siamo finiti E quell'altro, che è sempre lì che parla, gioca col cellulare, col cappellone Ma gli ho detto, ma va bene internet, ma basta, ma vivi un po' Esci, gioca a pallone, insomma Niente, non capisco, non cazzo E sostanzialmente questo è quello che mi ha detto Beh, come direbbe Grillo stesso, è una cosa pazzesca È una cosa pazzesca, esatto Ma il punto è che purtroppo il povero Grillo ci sta facendo Sembra il cattivo, ma non è il cattivo